Attenzione, la scena che segue potrebbe impressionare. E così potete dire in giro che Sergio dà letteralmente il sangue per la scienza. Io sono Sergio Pistoi, biologo molecolare, faccio e insegno divulgazione scientifica e questo, naturalmente, è il mio canale Rock Science. In realtà per questo esperimento ho cercato volontari per giorni, ma alla fine ho dovuto arrangiarmi. Questo è il microscopio che userò per questo video. Chi mi segue già lo conosce, si chiama DIPOL e non è il classico microscopio da tavolo, come vedete, ma un microscopio portatile, si usa con qualunque smartphone o tablet, è davvero molto potente e si possono fare delle osservazioni interessanti. Lo produce uno spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia ed è un prodotto a modo suo rivoluzionario. Devo dire che mi ci sto divertendo moltissimo e ho riscoperto anche una vecchia passione per il mondo micro. Sul mio sito per i docenti rockscience.it c'è una nuova sezione che si chiama Viaggio Micro e contiene tutorial e risorse per le osservazioni microscopiche. E se vuoi acquistare un DIPOL, approfitta del codice di sconto riservato che ti metto in descrizione. Non è un link di affiliazione, non ho percentuali sulle vendite, è davvero un bonus per gli amici di Rock Science. Vi metto il link in descrizione per tutto quanto. Prima che il mio sangue si coaguli, la prima cosa che faccio è metterne una goccia su un vetrino. Poi faccio quello che tecnicamente si chiama uno striscio. È molto semplice, si prende un altro vetrino e si striscia appunto delicatamente. L'idea è di formare uno strato sottile di sangue che possiamo osservare meglio. In questo modo le cellule, che vedremo sono parecchie, non si sovrappongono troppo. Poi prendo il vetrino, lo metto sul DIPOL e scelgo la lente BLACK, quella che ingrandisce di più. Sarebbe meglio partire dalla lente meno potente, in questo caso la RED, e poi passare a quella più potente. Ma io brucio le tappe e io vado subito a ingrandire come se non ci fosse un domani. Poi prendo lo smartphone e inizio a guardare. Vediamo cosa c'è nel mio sangue. Vedete tutti questi piccoli dischetti? Signore e signori, ecco a voi i globuli rossi. Questo è un globulo rosso, questo è un altro e così via. Come vedete ce ne sono una marea e vorrei anche vedere il valore normale dei globuli rossi nel sangue umano è di 4,5 milioni di globuli rossi per microlitro, cioè per ogni milionesimo di litro. Significa che un litro di sangue contiene 4,5 milioni di milioni di globuli rossi. Tanta roba. Poi naturalmente nel sangue ci sono anche i globuli bianchi, cioè le cellule del sistema immunitario, che sono circa mille volte meno abbondanti. Qui si vedono poco, ma dopo vi mostro un modo semplice per osservarli benissimo. Un globulo rosso è fatto più o meno così. Se volete fare i sofisticati, la forma è quella di un disco biconcavo, cioè un disco più largo in periferia e schiacciato dagli due lati all'interno. Oppure potete dire che ha la forma di un'orecchietta. Va bene, lo stesso. Questa è un'immagine al microscopio elettronico a scansione ad altissimo ingrandimento per darvi un'idea. Ma anche con il dipol o un altro microscopio ottico, questa forma particolare si intuisce bene. Basta fochettare, cioè ruotiamo leggermente la messa a fuoco, così da vedere i diversi piani. Si vede piuttosto bene l'incavo, che è più sottile e quindi appare più chiaro, e il bordo, che è più spesso e appare più scuro. Poi ragazzi, non ci credo che non avete mai visto un'orecchietta al microscopio. A cosa servono i globuli rossi e perché hanno questa forma? I globuli rossi, che si chiamano anche eritrociti, hanno un importante compito. Servono a trasportare questa molecola, che si chiama emoglobina. L'emoglobina, a sua volta, si occupa degli scambi gassosi nell'organismo. Quando il sangue arriva nei polmoni, l'emoglobina si lega all'ossigeno e lo trasporta insieme al sangue nei tessuti. Una volta sganciato l'ossigeno, raccoglie l'anidride carbonica dai tessuti per scaricarla nei polmoni al giro successivo, per poi ricaricare l'ossigeno. Ve la faccio semplice, ovviamente, ma è più o meno così, anche se sull'emoglobina e gli scambi gassosi potremo parlare per una settimana intera. La cosa importante per noi oggi è che i globuli rossi sono dei container pieni di emoglobina, ottimizzati per fare bene soprattutto due cose. Uno, avere la massima superficie di scambio gassoso. Due, arrivare ovunque nella circolazione, anche nei capillari più piccoli. La forma a orecchietta riesce a fare queste due cose. Offre un'ottima superficie di scambio rispetto al volume del globulo rosso e si impila in modo incredibilmente efficiente. Se non ci credete, basta guardare al microscopio e si vedono pile di eritrociti che si formano praticamente da sole. Bisogna pensare che i capillari più piccoli dell'organismo sono poco più larghi di un globulo rosso e che milioni e milioni di queste cellule devono passarci ogni secondo. È naturale che l'evoluzione abbia dotato i globuli rossi di una forma molto efficiente per far passare un sacco di cellule anche in un capillare molto stretto. Se ti piace questo video e lo trovi utile, dai anche tu una mano e sostieni RockScience. Con un piccolo contributo mensile entrerai a far parte della community di RockScience, vedrai i video in anteprima, accederai al gruppo riservato Telegram e molte altre cose. Guarda in descrizione per il link, non te ne pentirai. Qui sempre con il Deepol vediamo un'altra caratteristica che aiuta i globuli rossi, la super flessibilità. Qui c'è un flusso di globuli rossi che simula quello che succede in un vaso sanguigno. In realtà è solo la goccia di sangue che si muove sul vetrino e vedete come i globuli rossi riescono a cambiare e a riprendere la loro forma quando trovano un ostacolo. Ad esempio mettiamo che fosse la parete di un vaso. Ora con il microscopio cerchiamo di individuare il nucleo dei globuli rossi. Dai lo sanno tutti che i globuli rossi non hanno il nucleo. Ovviamente nascono con il nucleo come tutte le cellule perché nel nucleo ci sono le istruzioni genetiche ma poi ad un certo punto della loro maturazione lo perdono proprio per fare spazio all'emoglobina e per avere la forma più adatta possibile. In effetti se devi girare come una trottola e trasportare emoglobina che te ne fai del nucleo? L'assenza del nucleo ha un costo. I globuli rossi non possono fare molte cose a parte ovviamente tenerci in vita e soprattutto non avendo più di DNA non possono riparare i danni cellulari e quindi non durano moltissimo. Campano in media 120 giorni e poi vengono rottamati dall'organismo. Se state mangiando chiedo scusa ma il colore marron della cacca che facciamo almeno quella normale deriva dalla degradazione del leme che è un pezzo dell'emoglobina che appunto proviene dai globuli rossi rottamati. La prossima volta che andate in bagno osservate un minuto di silenzio per i tanti poveri eritrociti caduti esercitando il loro fondamentale dovere. Finora nessun globulo rosso è stato maltrattato per questo esperimento ma è il momento di stressare i miei globuli e metterli alla prova. Uno stress che le cellule sopportano male ma proprio male è lo stress osmotico. Allora ho sciolto un bel po' di sale in acqua e ne aggiungo una piccola goccia sul vetrino dove c'è il sangue. Guardate cosa succede ai globuli rossi. Si restringono letteralmente. Guardate i bordi che diventano a zigzag frastagliati. I miei poveri globuletti si stanno raggrinzendo come un palloncino che si sgonfia. I sali all'interno della cellula sono molto meno concentrati rispetto a fuori e per osmosi l'acqua esce dalle membrane cellulari e la cellula si sgonfia e ovviamente perde la forma che conosciamo. Effetto pneumatico a terra. Vogliamo fare il contrario? No problem. Invece dell'acqua salata aggiungiamo una goccia di acqua senza sale. Ora i sali all'interno della cellula sono più concentrati che fuori e sempre per osmosi la cellula assorbe acqua e si gonfia. L'effetto palloncino gonfio si vede ancora meglio di quello sgonfio perché la forma diventa sferica e dopo un po' i globuli rossi addirittura scoppiano, si lisano e lasciano in giro dei resti di membrana trasparenti delle specie di fantasmi che ogni tanto si riescono anche a vedere al microscopio. Ovviamente questi cambi di concentrazione salina nel sangue non devono mai avvenire altrimenti come vedete è un disastro e i valori osmotici del sangue come di tutti i tessuti sono tenuti entro limiti accettabili da tutta una serie di meccanismi fisiologici. Cosa posso farvi vedere ancora dei globuli rossi? Ah, qui vediamo che si sono coagulati e dopo un po' i fattori della coagulazione fanno il loro lavoro e i globuli rossi si agglutinano e formano il coagulo che è quello che ferma l'emorragia. Qui lo vediamo dal punto di vista microscopico. Alla fine non vi ho ancora spiegato perché il sangue è rosso. Allora, vi ricordate l'eme? È un composto che fa parte dell'emoglobina ed è il cuore del sistema perché contiene un atomo di ferro che è quello che si lega all'ossigeno e l'eme, o meglio il suo spettro di assorbimento luminoso a dare il colore caratteristico all'emoglobina e caso vuole che questo colore sia appunto rosso. Rosso vivo quando il ferro è legato all'ossigeno e rosso più scuro quando non c'è l'ossigeno. Ecco perché il sangue venoso, meno ossigenato, è più scuro di quello arterioso, più ricco di ossigeno. Semplice, no? Se invece vogliamo vedere i globuli bianchi, detti anche leocociti, la cosa migliore è fare una colorazione. Possiamo farne una molto semplice. Prendo lo striscio di sangue e per prima cosa lo immergo delicatamente qualche minuto in alcol. Va bene anche l'alcol rosa. In questo modo le cellule si fissano al vetrino e si disidratano. Lavo con un po' d'acqua e poi metto a bagno con due coloranti. Quello blu è blu di metilene e quello rosso si chiama eusina. Si trovano entrambe facilmente in farmacia oppure su internet. Lascio il vetrino insieme al colorante per 3 o 4 minuti. Poi risciacquo in acqua anche per una decina, quindicina di minuti per togliere l'eccesso di colorante. Meglio si risciacqua e meglio è. E infine, osservo. Ora, le mie fidate cellule del sistema immunitario risaltano bene. Si vedono i nuclei che hanno assorbito il colorante blu. Il blu di metilene colora soprattutto i nuclei. Eusina colora soprattutto il citoplasma. I globuli rossi si colorano leggermente con eusina. Questo è un globulo bianco. Questo pure. Dall'aspetto sembra un neutrofilo. In laboratorio, con una colorazione meno raffazzonata è un microscopio un po' più potente. Si possono riconoscere bene i diversi tipi di leucociti. Si può fare una conta delle cellule anche se oggi si fa con metodi automatici molto più rapidi. Oppure si possono diagnosticare diverse patologie e molto altro. La tecnica di base è comunque questa. Qui voglio solo farvi capire che è una semplice osservazione davvero alla portata di tutti. Guarda questa sta producendo anticorpi. Scherzo, boccaloni. Non si riescono a vedere gli anticorpi così al microscopio. Tra l'altro ho scoperto che nel kit dipol che ho io che è quello più completo c'è anche incluso un vetrino con uno striscio di sangue umano già colorato. Però vuoi mettere la soddisfazione di fartelo da solo? Non c'è confronto. So che vorresti restare con me tutto il giorno a guardare queste cose. Prova anche tu a farlo a casa o a scuola e vedrai che non è così difficile. Metti un like. Ricordati di donare qualche cappuccino a Rock Science e se vuoi acquistare un dipol approfitta del codice di sconto riservato che ti metto in descrizione. Mi raccomando, cervello sempre acceso dentro la scatola cranica. Alla prossima.